ciao a tutti ma soprattutto ciao bambini è tornata la lalix con un nuovo video e soprattutto oggi sono un pochino strana mi sono un pochino indatta perché volevo essere carina come nana surprise però ho capito che come nana non c'è nessuna io sono un pochettino più ridicola però ormai sto così che questo qua è un po scintillante è un po rosantico sognante però non lo so se vi spara flash o con i glitter comunque mi sentivo molto cute e mi sono un po trasformata in nana e quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i miei nuovi video schiacciare un like se questo video vi piace e attivare la campanellina e come sempre andiamo a spacchettare e come sempre il tipo in studio studio 5 di lalix dove andiamo a registrare il video di nana surprise oggi una busta molto bambinesca quindi più da femminuccia ma noi sia i maschi che i femmine piacciono diciamo tutto non è che hanno divisione e quindi anche le robe da bimba i maschi ti piacciono e viceversa qui in casa così 8 euro e 90 di busta molto carina io ovviamente sono stata catturata dalla bellezza esterna ve la voglio far vedere perché questa secondo me è la busta più carina c'è scritto sorprese stiloso e sorprese nana nana surprise quindi molto carina mi piace ma mi piace molto anche la nana tra l'altro questa qua è un po mora un po mora è bionda pure questa mora non c'è perché questo è il rainbow questa è bionda e questa è un pochettino più castana però io voglio una nana bionda come me non c'è sì e bionda però io voglio una nana mora come me non c'è speriamo di sì dai magari mi stupiscono e però questa nana è super sigillata mi riesce ad aprire anzi vuole l'ingledibile ult per aprirla non è per femminucce delicate questa è per maschietti forzutti andiamo ad aprire gli incredibili giornalini e speriamo che ci sia nana perché se poi dentro troviamo come si chiamano i cavalieri dello zodiaco piango davvero piango piango nel video giuro che lo faccio nooo c'è nana bellissimo che cos'è gioca con la moda gioca con la moda mi piace all'alix non lo do ai miei figli lo uso io questo più di 100 adesivi no vabbè gli adesivi che cute no vabbè che belli 4 euro e 50 questo giornalino già sto sbirciando dietro mi piace si ritagliano le robe dietro qua la camera girl mi fa lo zoom è molto carina la ringrazio per lo zoom qua ci sono delle attività da fare e cosa c'è da colorare gioca gli occhi oh no ma sono troppo carina queste le voglio disegnare sono bellissime vero belle queste noi non so se si può le andiamo a scopiezzare e ce le autodisegniamo delle magliette no però sono anch'io carina ed ecco questa no non mi bullizzate non mi bullizzate ce n'è una mi dicono che mi potrebbe ah l'amore si mi indicava la regista mi indicava che c'era un'amora come me si siamo troppo cute sono anch'io una nonna surprise niente sono troppo scusate questa enfasi ma sono veramente mi piace a pallettoni questa qua proprio bello la stoffa la stoffa per fare i vestitini non lo so se ho capito giusto però questi qua secondo me tipo la stoffa per fare i vestitini alla nonna mi piace tantissimo c'è scritto mi dicono grazie alla regista dice usa questi pattern e queste immagini per creare tante spillette ispirate allo stile nonna leggi sul retro ah della rivista ok per fare per creare queste spillette no vabbè se la trovate questa busta in edicola io vi consiglio di comprarla dopo non so se quando la comprate volete mettere un fiocchetto così sobrio come il mio fatelo pure no a me piace giocare niente e poi mi piaceva l'idea di essere un pochettino colorata come la nonna e sono felice già di questo giornalino 5 ore di giornalino già bello uuuu nonna e viva ritaglia nonna qua 4 ore 99 quindi 5 e 5 abbiamo già fatto più del prezzo della busta nonna si è ripagata va bene idee per picnic wow e test che animale sei e poi tante cose carine da leggere all'interno questo è il giornalino tante attività io devo dire che non conoscevo nonna e ci piaceva chi c'è il dietro mi indicano il dietro che è cute grazie per il suggerimento qua il pubblico mi suggeriva che il dietro vale la pena di essere inquadrato perché è veramente cute e molto carino ma questo io non conoscevo questo giornale la prima volta che lo vengo ma andremo sicuramente a cercare in edicola il magazine ufficiale le prossime settimane e prossimi mesi perché mi piace è proprio carina e prende proprio sento cielo fan quindi cielo fan magari anche gadget uuuu ah che carina nanà viva nanà 4 ore 99 di giornalino ce lo fa nato lo apriamo posso aprire? siiii grazie mi hanno autorizzata apriamo nanà e vediamo che cos'è il gadget pacchettiamolo eccolo qua il giornalino è bello molto carino il giornalino dietro c'è sempre un giochetto abbiamo capito questa cosa c'è sempre il giochetto pagina centrale un poster da colorare bellissimo e l'omaggino non so che cos'è andiamo a vedere l'omaggino e il notepad delle nanà surprise un notepad lo apro? siiii ok non sapevo se l'ho autorizzata meglio chiedere perché dopo richiuderlo ha un problema ecco molto difficile da aprire il cartone ce la possiamo fare si sempre bello i regalini dei giornalini ai bambini piacciono sempre che fatica che fatica ecco ce l'abbiamo fatta il notepad regalini diciamo piccolini però sono sempre carini ah ok penso che si apra schiacciando ecco qua il camera girl ci fa lo zoom ecco immaginavo si bello bello mi piace praticamente questi sono i fogliettini da mettere dentro vedete dei fogliettini un blocchetto è un blocchetto si mette qua bello e poi si chiude e si porta nello zainetto in borsetta bellino ci piace bello grazie nanà un bellissimo omaggio andiamo a vedere se c'è ancora qualcosa sento ancora qualcosa evviva che carino quelle ciocche colorate bello anche questo piace un po' a tutti tutti si mascherano a casa sia maschietti quindi lo usano tutti qua bello bello ok qua già se lo accaparrano mi dicono dammelo a me dammelo a me bello vediamo se c'è il prezzo no questo non è un articolo direttamente in vendita si te lo do te lo do me lo chiedono proprio in modo esagerato e lo consegniamo subito eccolo qua al pubblico abbiamo dato le ciocche colorate questo è il giornalino molto carino con gli animali qui dentro quindi ne abbiamo trovati tre e dentro non c'è più nulla che peccato vedete vuoto tutto mannaggia qua a farci compagnia la fattina bellissima della tunna che non l'abbiamo neanche presentata che secondo me aveva i colori un po' che richiamavano nanà io le voglio bene ha partecipato all'occasione speciale della mia vita e quindi l'ho invitata oggi qua per questa occasione speciale quindi abbiamo trovato ricapitolando quattro giornalini di nanà quindi 20 euro e l'abbiamo pagata 8,90 euro mi pare giusto? 8,90 euro quindi con nanà surprise quattro giornalini bellissimi e un giornalino gioca sticker che mi è piaciuto tantissimo vi saluto e come sempre vi ricordo di lasciare un like se questo video vi piace e se avete voglia potete commentare anche non so se c'è l'imoji della bambolina o qualcosa di coccoloso rosa così io capisco che questo video vi è piaciuto come sempre vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video